E' come non iniziare un episodio così? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Alex BJJ Oggi ci ritroviamo qui su GTA 5, dove andremo a combinare qualche cazzata e andremo a certificare qualcuno a satana Perché andremo a certificare qualcuno a satana? Adesso ve lo farò vedere, io non perché do i pugni a caso Non va, infatti la sciacquata C'è qualcuno? Qualche pezzo di merda? Qualcuno è passato qui? Ciao Andiamo ad affari, che cazzo detto? No Non sai chi sono io? Ah non lo so, non lo so, non lo so, non lo so Comunque sappiamo che vorrei essere qui a passata Adesso mi chiedo, vediamo se questo gioco è così realistico Danno a far bruciare le persone Cosa sta facendo? Danno a far bruciare le persone, allora Andiamo Eh, bucciamo Eh, mi sono proprio di sicuro Sai non ci voleva proprio che prevesse Eh già, lo so benissimo dire No, cosa spara a caso Non c'è qualcuno qua dentro? Che palle, madonna Qualche pezzo di merda c'è? No, nessuno No, nessuno Affanculo Quello è proprio questo pezzo di merda Aspetta, li fermo, vero? Cioè, rosso, bravo, fermati No, 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 sta lì, sta lì Eh, ciao Sì, sì E andiamo Una giornata di merda direi qua Su GTA Mi sto ammazzando comunque Cosa a caso Eh, veri lì No, non tutti Ciao C'è un po' di autosconto con le macchine Eh, niente Stavo giocando a Pokémon Go Mi sono distratto Anche te Stavo, sto giocando a Pokémon Go E non te l'ho visto Stavo che è un Pokémon Niente Guaccio Cos'è che è? Guaccio guaccio Che io Devo stare attento C'è Randy Orton qua Ma che è che è il Mono? Grazie Eh, ciao No, vaffanculo No, alzati, alzati Seguiamoli, seguiamolo Se ce la fa Non penso assolutamente Non sape che sono io Non ho cercato la polizia No, così Due domande Certo che però Se si fai catturare come un incoglionito È rotto il cazzo E va a tenere a fanculo Ma fan Quanto stronzo sei? Eh, ciao Cane Cane Quanto posso andare fuori strade Quanto lì Quello bastardo lì con la moto Non posso mi seguirmi Sono stati bastardo No, così è questo Provo vedere Inverso il canoso così Sono sicuro Anche questo Tutti quelli che hanno moto Quindi almeno forse sono sicuro Poi forse le becco tutte Parte 1 Chi lo dice Grazie Puoi andare più veloce Sai No No, cosa fai Perché si vede così di merda Dai Sono anche un po' schifo Questa è la pulizia Questa è la pulizia Cazzo Prendiamola Eh, ciao Questa è più bella infatti Questa è la pulizia E muori E raffanculo Minchia 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 che volo che ha fatto Dove stiamo finendo mai nella vita Sì, ciao Sì, ciao Molto interessante Cavolo Un uomo morto Per colpa della pulizia Cavolo Sono morto Non ci prego Adesso c'è l'ultima cosa che io dovrei fare Sapete la tecnica di benzina Ecco, dovrei sacrificare la mia satana Dato non c'era nessuna persona a sacrificare Adesso mi sacrifico io Niente, allora Tantica di benzina Sì, ciao Adesso ci deve essere il sole Ma va Va bene Vedete che si spaventano qua Mi metto qua un po' di benzina Ma cosa sta facendo Per che motivo Poi Prendo un'arma a caso No, un'arma così tipo Andiamo a sparare Andiamo sopra noi anche Io sono il diabolo Sono satana Ma non è successo un cazzo Io continuo così Mentre non muoio Provo a metterne di più Otteno un punto Va a far culo al cellulare di merda Che scarico Qualcosa che deve sempre accadere in GTA Pensate Niente, se non ce la faccio Andate E ciao Io vi saluto così Vedete un like Scrivete al mio canale Mettete un like A questo video Che cazzo fa Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti